Non c'è politico che non dica salviamo le eccellenze, lavoriamo affinché i cervelli nostri giovani non vadano via dalla Calabria, non impieghino il loro patrimonio culturale e scientifico altrove. Chiacchiere, spesso parole in libertà, perché poi i fatti testimoniano il contrario e sconfessano clamorosamente le intenzioni ed anche i buoni propositi. La vicenda raccontata da Tiziana Bagnato ne è un esempio tangibile. Il centro di neurogenetica di La Mezzia Terme dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra regione, di cui menare vanto ed orgoglio. La sua dirigente, Amalia Bruni, una ricercatrice ed una scienziata di livello planetario, apprezzata e riconosciuta in ogni angolo del mondo e che il mondo ci invidia. Insomma, la Rita Levi Montalcini, alla cui scuola si è formata, di Calabria, che meriterebbe dunque rispetto e considerazione per i risultati straordinari fin qui conseguiti, soprattutto nel campo della lotta all'Alzheimer e dall'invecchiamento precoce. Ma lei da tempo combatte anche su un altro terreno, a lei meno congeniale, molto scivoloso e complicato che le fa perdere tempo prezioso ed energie distraendola dal suo lavoro, quello per impedire la morte prematura della sua creatura. La burocrazia e la politica la tengono costantemente sulla corda le forniscono scarse risorse, insufficienti per il suo progetto e con il contagocce. Ma lei resiste e non si arrende. Sarebbe tentata di andarsene, ma ostinatamente rimane. Noi abbiamo dunque il dovere di starle a fianco e di sostenere la sua battaglia di civiltà, augurandole successo e suggerendo alla Regione e alla politica che la guida di cambiare presto registro nei suoi confronti e di fare del 2018 l'anno della svolta per Amalia Bruni, per il suo centro di neurogenetica, per la sanità in generale e per i calabresi. Buon anno a tutti.